Niente, volevo capire un po' come funziona questo fatto dei blocchi, dei sblocchi, che si hanno bloccato tutto. Salve a tutti, sono Rasta DJ e questo programma è una replica perché noi siamo in vacanza. Buona estate a tutti voi e ci risentiamo con le dirette in autunno. Un abbraccio da Rasta DJ e tutta la truppa. Un bacione. Pensavo peggio.